Sono Claudio Tancini, responsabile relazioni esterne di informatici senza frontiere, ho partecipato al tavolo della tecnologia. Il nostro contributo è stato da una parte quello di far capire quanto il terzo settore, il volontariato, può beneficiare all'innovazione della tecnologia, oppure può partecipare all'innovazione della tecnologia e quanto il sociale può beneficiare dall'innovazione tecnologica. Il secondo messaggio e contributo che abbiamo portato è proprio sui modelli che possono sviluppare interazioni tra profit e non profit. Attraverso il corporate social responsibility si possono attivare dei progetti anche su larga scala richiedendo delle risorse che arrivano dal profit e che possono invece essere benissimo utilizzate nel non profit per fare progetti anche di una certa dimensione.